L'obiettivo era duplice, mettere fattura attraverso società estero vestite, ossia con sede fittizie in Gran Bretagna ma realmente operanti a Bologna, senza pagare un euro di tasse nel nostro paese e permettere agli sponsor una deduzione sulla dichiarazione fiscale con il conseguente abbattimento dell'imponibile vedendosi poi tornare i soldi indietro. La Guardia di Finanza di Bologna ha però scoperto prestanome utilizzati per strutturare e gestire queste catene societarie costituite oltre che dall'estero vestiti anche da società italiane e da altre tramite l'interposizione di fiduciari estere situate in paesi offshore come isole vergini britanniche e Panama. Il tutto per nascondere la reale allocazione reddituale degli effettivi socio-amministratori e impedire la ricostruzione delle tracce contabili. Sono stati quindi sequestrati beni immobili e immobili tra cui una vila sui colli bolognesi del valore di circa 2 milioni, auto, quote societarie, polizze e conti correnti per quasi 25 milioni di euro. 16 gli indagati e un giro di fatture false o gonfiate accertato per oltre 75 milioni per prestazione di sponsorizzazione in favore di due società di basket di cui una imolesi di livello nazionale e l'altra femminile con sede a Parma. Agli indagati tra cui quattro bolognesi e due inglesi è contestata a vario titolo l'associazione per delinquere finalizzata l'emissione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'omessa dichiarazione fiscale, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, la simulazione di reato, il tutto con l'aggravante della transnazionalità. Dalle indagini sulla società di basket è emerso che al pagamento della fattura da parte dello sponsor alla società inglese seguiva la retro restituzione di parte del corrispettivo nuovamente all'azienda tramite la prodo finale di San Marino. Ai presidenti delle due società viene contestato di essere coloro che procacciavano gli sponsor, tra l'altro non per conto delle società di basket bensì a favore di quella inglese, provvedendo inoltre alla materiale consegna delle fatture false e dei relativi contratti simulati di sponsorizzazione.